Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento la maglia dei Lakers in edizione Diamond Icon per la stagione 21-22. Ogni squadra ha un'identità iconica, colori che riccheggiano per entere generazioni di tifosi. La maglia Los Angeles Lakers Diamond Icon Edition celebra la stagione numero 75 del campionato con un logo ispirati al diamante e targhetta aggiornata. La maglia ha un nuovo orlo a coda lunga con spacchetti laterali per lasciarti muovere liberamente. La targhetta cucita e aggiornata, lo swoosh ispirato al diamante e il logo NBA sono dettagli speciali per commemorare il 75esimo anniversario dell'NBA. Realizzata con 100% di poliestere, la tecnologia Nike Dry Fit allontana il sudore dalla pelle per un'evaporazione più rapida aiutandoti a rimanere asciutto e comodo. Cosa ne pensate della maglia? Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Non faccio spesso recensioni dell'NBA ma questa non poteva mancare. Una delle squadre più importanti dell'NBA e di uno dei giocatori più forti probabilmente della storia dell'NBA. Peraltro fatta veramente molto bene e in descrizione vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare. Ora se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e quella che vedete è una taglia media. Grazie a tutti! Grazie a tutti!